Bene amici, domenica, tra l'altro domenica post natalizia, grazie mille davvero per tutti i vostri messaggi d'auguri e per l'affetto, ma non sarà la solita rubrica pagamenti. Certo parleremo delle prossime mosse dell'Inps, delle mille mila disposizioni che riprendono proprio domani, abbiamo già, già alcune date ufficialissime anche per l'inizio proprio di gennaio, ma soprattutto ricche anticipazioni, annunci, ufficialità succulente per un mese che si prospetta davvero complicato, dove, spoiler, no, non ci sarà un ritorno alla normalità, ma ancora diversi anticipi e anche diversi ritardi. Certi, praticamente, ufficiali. Per colpa di? Adesso vi spiego per bene tutto, io sono Mr. Lull, trovate in descrizione la divisione in capitoli per accedere all'argomento che vi interessa maggiormente. Partiamo, prima, like, iscrizione, campanone, abbonamentone, condivisione e sigla. E partiamo, è inevitabile, con le pensioni, perché il primo pagamento di gennaio stra-ufficiale è proprio questo. Accrediti che sono già disponibili, già oggi, per chi ha il libretto postale, invece si parte da domani con l'accredito generalizzato per tutto il mondo poste. Questo che vedete in sovraimpressione, invece, è il calendario ufficiale per il ritiro dei contanti allo sportello. Per i correntisti bancari, i tempi, invece, si allungano. Bisognerà attendere il 4 gennaio. Davvero, davvero minimi poi gli incrementi e aumenti per equativi in busta, sia perché IMSS ha applicato un tasso per equativo inferiore a quello ufficiale, l'1,6, sia perché IRPEF addizionali, zac zac, hanno del tutto annullato gli effetti benefici di questo leggero incremento. E le prossime mensilità saranno anticipate? Sì, certamente. Appena ne avrò notizia dalla protezione civile, come sempre, vi aggiorno. Carta acquisti bimestre gennaio-febbraio 2022. Attenti, solitamente il primo bimestre dell'anno non viene caricato in mantenente velocemente nei primi, diciamo, dieci giorni di gennaio, ma slitta, slitta solitamente sempre in attesa di verifica da parte di IMSS dei valori del nuovo ISEE 2022. Ad esempio, lo scorso anno le ricariche partirono addirittura solo dal 23 di febbraio 2021. Un gennaio sicuramente complicato anche per naspi, discol e disoccupazione. Solitamente, infatti, date e pagamenti escono con un certo ritardo rispetto a tutti gli altri 11 mesi dell'anno. E lo scorso anno 2021 fu necessario attendere fino al 18 gennaio, appunto. 2021, ascoltatemi bene però, nel primo mese dell'anno, quindi a gennaio, per chi abbia svolto delle prestazioni di lavoro autonomo occasionale, beh, potrebbe capitare che l'istituto vada a bloccare proprio l'erogazione della disoccupazione, in attesa di ricevere entro il 31 di gennaio le comunicazioni dei redditi presunti, con il modulo ovviamente in ASPICOM. Per quanto riguarda invece il trattamento integrativo bonus 100 euro, che resterà anche nel 2022, però solo a pannaggio dei redditi più bassi, anche qui se ne parla sempre per mese inoltrato. Già ufficiali invece per domani, 27.12, e per il 3 di gennaio 2022, alcune date per chi attende assegno unico. Figli, ancora l'assegno ovviamente, ponte su domanda. Attenti però, a differenza di quanto asseriscono alcuni siti, blog di informazione ogni tanto alquanto confusa, si tratta di arretrati di novembre, come vedete anche voi, dalle date riportate nel fascicolo e non della competenza di dicembre. La competenza dicembre arriverà, insomma, presumibilmente a stretto giro, speriamo con lo stesso super anticipo e tempificazione che abbiamo visto per il pagamento della competenza di novembre 2021, che è arrivata a inizio dicembre. Ufficiale ancora per domani il pagamento dei primi flussi di bonus terzo figlio ANF dei comuni. Ripeto ragazzi, prime date man mano escono a tutti. Come man mano uscirà a tutti il bonus sociale o bonus sociali in bollette automatici maggiorati per il 2022. Arera però dovrà essere celere nell'applicare questi sconti, altrimenti le prime bollette dell'anno saranno, pam, una vera ammazzata per tutti, anche per i nuclei più in difficoltà. Speriamo quindi che i bonus in bolletta vengano applicati su base presuntiva, senza la necessità di dover attendere l'ISEE aggiornato con i dati al 2022. Ma fermi, siamo arrivati a reddito e pensione di cittadinanza e nemmeno qui ci sarà un ritorno completo almeno alla normalità, alla tradizionalità. Infatti la ricarica quella speciale di metà mese per rinnovator, nuovi beneficiari, per chi attende arretrati, per chi attende la prima ricarica delle 18, potrebbe essere anticipato al 14 gennaio, infatti il 15 cade di sabato, con annessa integrazione dell'assegno unico ponte competenza dicembre. Per quanto riguarda la ricarica ordinaria, qui dovremmo andare a giovedì 27 gennaio. In queste due finestre, tra l'altro speriamo, arrivino le integrazioni dei bonus onnicompressivi per chi ancora purtroppo è in attesa dei suoi sudatissimi 1.600 euro. A proposito di speranze, parliamo di reddito di emergenza, quarta rata. Ultime date nei fascicoli per chi ancora attende gli arretrati sono per il 24 dicembre. Non dubito poi che ne usciranno altre nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, per chi attende ancora la competenza di settembre oppure ancora addirittura quella di agosto o luglio. Una vergogna. E poi ad oggi, come vado ripetendo costantemente, a differenza di quanto riportato da alcune testate, non esistono prove o dichiarazioni o certezze particolari circa una proroga nel 2022, che però tutti, tutti ci attendiamo con le dite incrociate come provvedimento assoluto di giustizia sociale. Tra l'altro ha anche appena parlato diverse volte in questi giorni Orlando, invitato anche sulla 7, si parla di, il ministro parla di una tempesta in arrivo a gennaio con possibili chiusure, zone arancioni, rosse, eccetera, ma zero, zero dichiarazioni su nuove rate REM. Chiudiamo con le integrazioni salariali. FSBA sta erogando la competenza di ottobre, disposizioni che sono partite ormai dal 22-23 dicembre, mentre per FIS e CIG Covid, come al solito e purtroppamente, non ho novità o date specifiche. L'ultima data che ricordo era un 30 novembre, poi personalmente non ho visto più nulla. Detto questo, se avete domande, dubbi, perplessità, io vi aspetto qui sotto nei commenti, vi ringrazio come sempre. Se avete gradito questa rubrica, se è stata utile, o quantomeno spero interessante, fatemelo sapere con un bel like, l'iscrizione col campanone, l'abbonamentone, la condivisione. Alla prossima, grazie di nuovo, da Mr. Lul.